Alveno, bella prestazione a Macerata, però non è servito? Non è servito, è servito innanzitutto per mettere a fuoco alcune nostre situazioni e mi riferisco al fatto che siamo cresciuti notevolmente. Il primo set l'avevamo in mano, tant'è che avevamo avuto anche la palla del set appunto, soltanto che dall'altra parte abbiamo trovato dei giocatori che hanno fatto delle difese eccezionali, è merito loro e non a caso sono campioni d'Italia. Del resto noi per ora siamo questi, abbiamo visto che siamo cresciuti, possiamo fare molto molto meglio e questo è importante. Certamente non potevamo pensare di venire qui a Macerata a vincere, però abbiamo dimostrato che ci sappiamo stare. Domenica c'è Monza? Domenica c'è Monza, insomma la Formula 1 ha smesso oggi, quindi Monza già è stata fatta. Noi la affronteremo e vediamo un attimo come riusciremo a fare le traiettorie, sperando che le traiettorie vadano in campo, che siano redditizie e poi vediamo un attimo i tornanti come saranno. Grazie a tutti.